La CISL sta raccogliendo le firme per una legge che dia 1000 euro l'anno di bonus fiscale a pensionati e a lavoratori che dichiarano redditi fino a 40.000 euro. Lei firmerebbe? Non si che sono d'accordo, certo, la firmerei, certo. Io direi di sì, direi che qualunque cosa aiuti i pensionati penso che sia da favorire. Io per esempio prendo 500 euro di pensione e perciò mi sarebbe bene a me, capito? Sono nati incapienti sì, ma agli altri no. Si potrebbe fare anche perché i politici ormai hanno più e più e più soldi. Quelli che ci rimettono purtroppo sono le persone che non hanno un lavoro o le persone anziane che purtroppo hanno una pensione bassissima. Sì, assolutamente sì. È una piccola mollica, però intanto si è mista da quello. Sì, certamente sì. Sì, volentieri. Sì, anche perché è una cosa giusta, soprattutto per i pensionati, pensionati che hanno un reddito molto basso. Sì, volentieri. Sì, anche perché è un'altra cosa giusta, soprattutto per i pensionati, pensionati che hanno un'altra cosa.